Bene ragazzi, oggi vi voglio parlare di questo smartphone, Ukitel U20 Plus. Perché parlarvi proprio di questo smartphone? Perché probabilmente è il più economico dual camera che esiste al momento, stiamo tra i 100 e i 150 euro. Ma soprattutto perché è il primo dual camera di Ukitel che è una realtà emergente, un piccolo brand che si è fatto notare per i suoi dispositivi apprezzabili, in quanto all'essere almeno robusti e affidabili. Probabilmente adesso si è lanciata su una direzione differente, un dual camera, quindi non è concepito appunto per resistere a degli sforzi, a delle cadute e così via, ma dovrebbe almeno su carta essere ottimizzato per l'uso di due camere. L'effetto che è stato descritto è quello appunto dello sfocato, l'effetto bokeh. Vediamo se veramente funziona, se è ottimizzata questa dual camera. Intanto che lo accendo, vi faccio l'unboxing veloce della scatola, come vedete appunto è nera, con le scritte traslucide, molto carina, con i tre colori disponibili. Oggi abbiamo qui per la recensione il grigio, come avete visto. Dentro troviamo lo smartphone inserito in questa plastichetta bianca di protezione, una cover in gomma, anche questa utile per proteggerlo, e dentro troviamo l'essenziale, la spillettina per il carrellino, dato che ha il carrellino delle due sim, non si apre la cover anche se in plastica, come dopo vi faccio vedere. Poi ha l'essenziale appunto il caricatore da muro e il cavetto USB, insieme alle istruzioni in inglese. Ok, lo smartphone dovrebbe essere acceso, perfetto. E allora, vi parlo della parte hardware, velocemente monta un quadricore della Mediatek, E6737 nella versione T, ok, sarebbe turbo, nel senso che ha un clock maggiore, probabilmente per supportare, o sopportare anche, queste due camere, poi vedremo perché dico sopportare. Poi monta 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, e appunto espandibili fino a ulteriori 64. Il pannello frontale è un 5,5 pollici, full HD, che poi, come andiamo a vedere, presenta qualche piccola differenza dai soliti. Andiamo a vedere subito il display tester. Io ho notato una tendenza al celestino. Ecco. Allora, vi premetto che, anzi, lo vado a togliere perché per correggere questo azzurrino che vedevo, io sono andato in display Miravision e l'ho cercato un pochino di migliorare. Infatti ho messo la temperatura del colore tutta verso la parte calore. Quindi io la metto al centro, come era all'inizio, così vediamo un attimino come si presenta. Allora, aumentiamo la luminosità. Rossi, direi buoni. Il verde è un po' troppo sparato. Il blu, qui della fotocamera sembra quasi viola, ma in realtà, ecco, questo qui è il blu, vero. Il bianco è un po' tendente all'azzurrino. Il grigio, il nero, che in realtà è buono. Il pannello IPS non è un AMOLED, però è buono. Non vira particolarmente verso dei colori. Quindi io, uno dei difetti che ho incontrato, forse uno dei pochi difetti che ho incontrato di questo pannello è la tendenza verso l'azzurro. Io cerco di riportarlo alla normalità andando appunto sui settaggi di Miravision, sul display, Miravision appunto, e sulla temperatura del colore. Ecco. Detto questo, abbiamo parlato un attimino dell'hardware, del piccolo difetto del display. Andiamo a parlare del resto. Io mi soffermerei principalmente sulla fotocamera, perché è il comparto sul quale ha puntato di più questo dispositivo. Allora, il comparto fotocamera monta un modulo da 13 megapixel con 0,3 accanto per fare quell'effetto sfogato. Davanti monta un modulo da 5 che vi annuncio già che non è granché per fare i selfie. Quindi mi soffermerei più che altro sulla fotocamera posteriore. Allora, io ho fatto degli scatti, anzi, prima vi faccio vedere come è l'interfaccia della fotocamera. Con degli swipe ci spostiamo appunto da video a fotografie, poi c'è bellezza viso, dove poter fare delle foto e appunto fare l'effetto ringiovanente, diciamo. La panoramica SLR questa qui è la modalità appunto per fare le foto da vicino. Allora, per esempio, vediamo un attimino adesso in diretta che effetto fa. Allora, ecco. Ora ve la faccio vedere. Questa qui è la prima con questo oggetto giallo. Allora, come potete vedere, come io già ho visto anche in altre foto, in realtà i dettagli sono buoni fatti da vicino con questo effetto. L'effetto sfocato in realtà c'è, si vede di più in altre foto che ho fatto. Quindi, vi faccio vedere anche il reparto galleria dove vi parlerò anche di un curioso bug. Allora, queste qui sono le foto fatte all'aperto. Come vedete i colori sono abbastanza naturali, devo dire. Sono calibrati abbastanza bene. Questa foto qui è fatta senza HDR. Questa foto qui con HDR è in realtà veramente una bella foto. Quindi, per le panoramiche può andare anche bene. Questa qui è fatta con quell'effetto lì, con l'effetto appunto sfocato. Questo oggetto qui, come vedete, presenta molti dettagli. La fotocamera qui lavora bene, anche i colori non sono troppo saturi. Questo verde probabilmente è un po' troppo saturo solamente, come abbiamo visto anche dal display tester. Il verde viene un po' troppo sparato. Però, l'effetto è veramente gradevole. Vedete, qui è sfocato. Quindi, mano a mano dal soggetto che viene inquadrato poi c'è tutto quell'effetto sfocato che lo metti in risalto. Anche qui, vedete, veramente, sotto questo aspetto io penso che abbia fatto centro. Nel senso, si è riuscita a ottimizzare per questo dispositivo l'uso della fotocamera. Quindi, poi, quest'altra foto qui, come vedete, c'è sia un calice, un oggetto, degli occhiali. Qui ho focalizzato, appunto, l'attenzione, anzi, no, questa foto qui è senza l'effetto. Di qua ho fatto quella con l'effetto, così potete vedere la differenza. Riuscito bene, veramente. Questa senza, comunque, è anche venuta bene perché i dettagli rimangono. Vedete? Quindi, lo schermo rimane reattivo anche nello zoom, come vi dicevo, quindi, è un buon pannello tranne quel piccolo difetto che tende un po' ai colori freddi e spara un po' troppo il verde. Vi faccio vedere altre foto, sempre da vicino, macro, buoni dettagli, come vedete. Questa è una foto di sera con la luce del lampione, la neve da vicino. Allora, vi parlo del difetto di questa fotocamera perché voi, da quello che vi ho detto, sembra che sia tutto regolare. In realtà, non lo è. Per quello per cui è concepita, lavora bene, l'avete visto, vi ho fatto anche vedere le foto. Per il resto, nel senso, panoramiche o delle foto anche da un metro e oltre, un metro e mezzo ed oltre, presenta un grave difetto. E il difetto in questione è che non focalizza. Non focalizza, non mette a fuoco e quindi i dettagli rimangono sfocati, non si vede nulla come dettaglio. Ora vi faccio vedere anche altre foto. Questa era da vicino, quindi è venuta bene. Vi faccio vedere foto a media distanza, come questa parete. Questa teoricamente i dettagli si dovrebbero vedere per avere 13 megapixel ed essere ottimizzata così bene nelle macro, teoricamente dovrebbe andare bene anche per il resto. Invece, come vedete, sono veramente sfocate. Sembra una fotocamera da 5 megapixel, anche di meno. Invece, se andate a vedere delle foto da vicino, lavora bene. Bene. Veramente. Quindi, io penso che questo sia un problema di ottimizzazione software. Probabilmente riceverà un aggiornamento da Ukidel, perché non penso proprio che lasceranno un prodotto del genere che dovrebbe fare della sua forza la fotocamera con dei difetti del genere. Ora vi faccio vedere un'altra foto da vicino, così vi faccio capire la potenzialità di questa fotocamera. Allora, questo qui è il mouse con quell'effetto sfocato intorno, come vedete, ci sono veramente molti dettagli, anche i granelli di polvere. Cioè, queste foto veramente non riesco a capire come possano poi non venire altrettanto bene o quasi in foto panoramiche o di media distanza, perché per il resto veramente il sensore lavora veramente bene. Vedete? Cioè, sono veramente dei bei scatti. Bene, finisco di parlare della fotocamera, vi dovevo parlare di un difetto, di un bug che ho visto nel comparto galleria. Allora, la galleria è la classica stock di Mediatek e il bug di cui parlavo è che se io voglio selezionare tenendo premuto un oggetto per poi prenderne altri e doverli eliminare come normalmente qualunque telefono fa, non riesco a farlo, perché mi dà questa schermata qui. Vedete? Io non riesco ad avere la griglia con tutti gli oggetti, con tutte le foto da dover selezionare per poi doverle eliminare. Non ci riesco, se voglio eliminare una foto devo aprirla, andare nelle impostazioni ed eliminarla tramite il menu. Questo è anche un bug. Secondo me riceverà degli aggiornamenti, non penso proprio che lascerà questo software. Comunque, per adesso non è sufficiente il comparto fotocamera secondo me, anche se fate le macro veramente buone. perché se uno smartphone si presenta per fare delle foto addirittura l'avranno paragonata all'iPhone 6 e ad altri top gamma, almeno il minimo che sia fare delle buone macro e delle buone foto panoramiche le deve fare, almeno. Invece abbiamo visto che le macro sono veramente buone, possiamo dire, ma le foto in media distanza no. vi voglio parlare del resto adesso finito il comparto fotocamera parliamo del resto per quanto riguarda telefono, come funziona, come va, è fluido, quei 2 giga di RAM, questo processore come va. Allora, la batteria che monta poi, monta a 3300 mAh quindi un buon, anche un buon modulo della batteria, sarà ottimizzato, come andrà. Allora, Android 6.0 di solito fa quasi miracoli anche con dispositivi che non vanno bene. In realtà qui ha degli alti e dei bassi. Vi faccio vedere perché? Vi faccio vedere uno screenshot della batteria e di come si è comportata. Allora, lo schermo è rimasto acceso per 2 ore e 49 minuti. Poteva dare di più ve lo dico subito perché i drasticali della batteria che vedete anche in questo grafico sono dovuti all'uso del GPS. Infatti i MAPS qui presenta il 7% di consumo perché quando si utilizzano applicazioni molto esose di energie in poche parole la batteria cala drasticamente. Per il resto la gestione stand-by e il consumo per le altre applicazioni vanno abbastanza bene. Questa parte dove non scende molto appunto quando sta in stand-by viene utilizzato poco quando si utilizzano applicazioni pesanti cala drasticamente probabilmente con tutto che monta Android 6.0 non è molto ottimizzato quindi confido anche qui in dei futuri aggiornamenti. Allora poi andiamo a vedere un attimino come si comporta nel comparto gaming mentre carica Real Racing 3 vi parlo delle dimensioni che non vi ho parlato prima quindi allora la lunghezza è di 154 mm quindi più di 15 cm ciò che forse interessa spesso alle persone è anche la larghezza 8 mm e mezzo anzi scusate 77 mm quindi 7,7 cm non è ottimizzatissimo ora cercherò di farvi vedere anche ecco qui vedete delle cornici laterali che non sono proprio piccole Real Racing si è bloccato ecco lasciamolo lavorare il niente grave problema di Real Racing ecco ci è riuscito allora dicevo lo spessore invece rimane di 8 mm e mezzo quindi abbastanza buono non è poco non è non è neanche troppo il peso andiamo subito a vederlo 164 grammi quindi che vi devo dire la verità non è che si sentono tantissimo probabilmente la distribuzione dei pesi è stata è stata calcolata bene buono per questo allora ecco calibriamo il volante questo è un gioco pesante quindi possiamo vedere come lavora la Mali 720 già lo sappiamo perché questa GPU è su molti device economici ma è la MP2 quindi ha un clock maggiore vediamo come va lagga un po' come vedete si non è il massimo della priorità al limite del giocabile non è molto godibile il gioco vi devo dire allora forse una mia piccola teoria è che essendo un full HD e il processore non è il massimo della potenza avrebbe dato meglio forse se la risoluzione fosse rimasta HD sia per quanto riguarda il consumo della batteria ma anche per quanto riguarda l'usabilità nei videogiochi pesanti su Antutu ha fatto quasi 40.000 punti quindi ci rendiamo conto che in realtà un po' di potenza ce l'ha perché comunque per quello che riguarda dei videogiochi pesanti di solito con dei processori che arrivano a questo punteggio si riesce a giocare bene o male invece non è ottimizzato per una risoluzione così alta il full HD probabilmente c'è del lavoro da fare anche qui andiamo a vedere il reparto browser io ho già messo anzi usiamo Chrome così possiamo fare anche allora qui ho già messo il settaggio ecco si è tolto il settaggio eccolo qui sito desktop così possiamo vedere allora mettiamo il messaggero per esempio così possiamo vedere come va la tastiera prende bene come avete visto allora ecco qui mi ha sorpreso perché il browser rimane sempre sempre fluido l'avevo già provato ve lo volevo far vedere in diretta come vedete il pinch to zoom il pinch to out viene abbastanza bene piccoli lag qualche volta ma cioè chi è che utilizza un browser così quindi è solo per farvi vedere come si comporta però per caricare le pagine e la fluidità non è niente male come vedete qui è modalità desktop quindi vi lascio immaginare poi modalità mobile con le pagine ottimizzate va veramente bene quindi qui un punto a favore il browser e la navigazione ottimizzata bene vi volevo parlare del comparto audio vi faccio vedere un attimino su youtube mettiamo una canzone con le pagine che stanno obliquita Allora, l'audio è mono, come vedete È quello sinistro Volume nella media Qualità discreta, bassi inesistenti, qualità discreta dell'audio Volume però nella media si sente abbastanza, quindi sufficiente sotto questo punto di vista Ok, credo di avervi parlato di tutto Per il resto troviamo appunto Android Stock Pochissime personalizzazioni Troviamo qui, oltre al fingerprint, eccolo qui Che ce l'abbiamo dietro per lo sblocco del terminale Ma anche delle curiosi ottimizzazioni da poter usare Si può fare uno screenshot tenendo premuto il sensore delle impronte Si può tornare al livello precedente toccandolo solamente, come avete visto Si possono fare anche altre cose Io sono quelle che ho trovato più utili, sono state queste qui Per il resto veramente troviamo Android Stock Niente di più, niente di meno Bene, che dire? Che c'è da lavorare? Ukite l'ha da lavorare se vuole cominciare a competere con qualcuno Anche non solo con i top di gamma, con i medio di gamma Con i brand diciamo medio economici Per il resto però la costruzione, come sempre, uno dei punti di forza È impeccabile Perché anche se ha una back cover in plastica La sensazione non è cheap È montato veramente bene questa cover Che gira intorno al terminale Come vedete Non ha il frame laterale in metallo come molti smartphone Forse per risparmiare un po' sul prezzo Però l'effetto è carino Rimane abbastanza godibile Perché è smussato in tutte le direzioni I tasti sono montati bene Il tasto accensione, il tasto del volume Non scricchiolano Non presentano gravi problemi Per il resto i tasti non sono retroilluminati Anche qui siamo andati un po' sul risparmio Allora, che voto gli do? Diciamo che comparto fotocamera Io non gli do la sufficienza Anche se fate le buone macro Non gli do la sufficienza Perché non è riuscito a fare delle buone foto Da media distanza E dei dettagli soprattutto In media distanza e lunga distanza Per il resto la gestione dei colori sembra buona Anche nelle panoramiche Come avete visto la gestione dei colori era buona Non erano troppo sparati Tranne un po' il verde E le macro erano veramente buone Quindi 6, meno, 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 meno Fino ad arrivare al 5,5 Diciamo così Per il resto Comparto audio 6 La media Ottimizzazione software 5,5 Perché la batteria trova dei bruschi cali di consumo Per il resto Un buon smartphone per chi lo vuole usare tutti i giorni E non ha grandi pretese Bene, per adesso è tutto Avete visto più o meno come si comporta un entry level dual camera Lascio a voi di utilizzarlo E di fare le vostre valutazioni Ciao a tutti E di fare le vostre valutazioni Grazie a tutti